Il Ponsacco è l'autentica bestia nera del Sansepolcro, mai tra le due formazioni il Sansepolcro è riuscito ad ottenere punti. Anche in questa gara di ritorno la formazione del Ponsacco riesce con lo stesso punteggio dell'andata a battere il Sansepolcro per 2 a 1. Le principali azioni del primo tempo al sesto minuto da calcio d'angolo, Nonni in posizione eccellente davanti alla porta sbaglia una palla facile. A tu per tu con il portiere Vadi, alza di testa troppo sopra la traversa. Undicesimo minuto, capovolgimento di fronte, calcio d'angolo per il Sansepolcro battuto da Chiasserini, Tersini di testa impegna il portiere Cappellini che si riesce a difendere mettendo la palla in calcio d'angolo. Diciassettesimo minuto per il Ponsacco, Ferretti calcia all'angolo lontano da Vadi il suo diagonale però è intercettato dal portiere del Sansepolcro che riesce a distendersi e a deviare. Al diciannovesimo ancora un'occasione per il Ponsacco con doveri, ancora una volta Vadi si supera e riesce a deviare. Al ventitresimo, Esussi di testa trova la palla ma alza troppo la mira. Trentacinquesimo, Ferretti porta in vantaggio il Ponsacco, dalla tre quarti vede il portiere del Sansepolcro fuori dai pali e con un preciso pallonetto realizza il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude sull'1-0, si attende la reazione del Sansepolcro nella ripresa che arriva al primo minuto con Bracalenti che ruba palla e si presenta davanti alla porta del Ponsacco ma da posizione piuttosto angolata, calcia potente ma leggermente alto. Al ventesimo ancora Ferretti per il Ponsacco in contropiede, si presenta davanti a Vadi ma il suo diagonale finisce fuori di poco. Al trentatresimo da calcio d'angolo ancora di Chiasserini, Esussi di testa mette fuori. Trentacinquesimo, è pericoloso Nonni di testa, una bella deviazione la sua ma la palla finisce fuori. Saltano i nervi al Sansepolcro, al quarantaduesimo fallo di Cangi, per lui il rosso diretto dall'arbitro e poi per le proteste espulso anche l'allenatore Davide Mezzanotti. E due minuti dopo Bortoletti segna un gol possiamo dire da flipper perché la conclusione è di granito, però Bortoletti intercetta e la palla finisce in rete per il 2-0. A quel punto tutti sono convinti che la partita sia finita, invece al quarantaseiesimo Braccalenti riesce ad accorciare con un piatto preciso il suo destro. Serve per realizzare il gol del 2-1 ma non per pareggiare questa gara che ancora una volta vede una sconfitta della Sansepolcro.